Ma tu queste torte qua le hai mai mangiate? Ti devo rispondere di sì? No Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale Ammetto di aver sempre denigrato questa tipologia di torte Ovvero le torte confezionate dal supermercato perché già Sei viziato e compri le torte solo dal pasticciere Non compri proprio le torte È che ammettiamolo già dalla confezione sono brutte e non invitano Ma visto che la vita è solamente apparenza bisogna farle sembrare le torte più buone del mondo Ho accetto che dalla confezione sembrano brutte Non mi ascolta quando parlo Come faccio a fare i video in cui non mi ascolta quando parlo? Ho sbagliato E poi sputa l'acqua perché è tenso È un'ammissione di sbagli questa Per me invece sono carini Ma è che sembrano fintissime Eh vabbè per quello sono belle È come le torte di zucchero no? Sono bellissime però non si possono mangiare Ma invece si possono mangiare Puoi poi muori giovane però puoi Quello che ci andremo a chiedere in questo video è È come sulla confezione Crostata con confettura di albicocca Qual è la prima cosa che ti viene in mente guardando questa crostata? L'estate L'arancione Il sole È veramente arancione Sì Dalla scatola in sé Alla crostata Alla confettura All'albicocca Alla marmellata Il tutto è Completami Arancione Lo sarà davvero? I colori saranno così accesi Caldi e estivi? Non credo Quella che c'è sulla confezione Sembra effettivamente una di quelle classiche crostate Della noia Sul davanzale della finestra Molto bello Alla mattina appena svegliato Basta Ok Sembra fresca La marmellata brilla Ma a me la cosa che piace di più è la variegatura sulla pasta frolla I disegnini Voi i disegnini Che fai con la forchettina Si dice variegatura? Te 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 Che sembra veramente spremuto a mano con i tuboni quelli che si fanno per la pasta La sac a poche Poi il taglio pulito Lo spessore della marmellata Sarà così? No Eh vabbè Dagli una chance Apriamo Comunque Cinque strati di scotch per coprire i marchi E anche i lucchi Gli andrei Gli Nelson I Cesari Tira la cuore il mandrillo Cosa dicevamo sul colore? Che era arancione Marrone Anzi Ti dico Quasi mi piace di più che quella sulla confezione Molto più porosa Ho capito che ti piace di più Non è come sulla confezione Non puoi dirmi che era Nooo Sai Siamo sempre stati delusi dalla confezione Per cui se Te la mettono più Più carina Di solito Stà A parte che non so per quale gioco Sulla confezione Sembra molto più grande Ti esce questa cosina E ci rimani Deluso Ma la marmellata Di albicocca Che colore è l'albicocca? E meglio arancione E perché la marmellata è marrone? Perché è un po' a marcia l'albicocca Vabbè però è buona Passami per il tagliere Che vediamo il taglio Come viene Se viene pulito O no E com'è La texture C'è Sì ma è anche più alta Di quella sulla confezia Dai a bel mandrillo Il taglio sembra venire pulito Però guarda Guarda la texture È flaccida Vai bel mandrillo Vai Ti riverti? Sì Cioè metà della marmellata Che c'è sulla confezione Ma il doppio dell'impasto E non so se è cosa buona E giusta Cosa dici bel cavallo? So che l'ho insultata finora Però obiettivamente A fetta tagliata A parte il colore Che è un pochino più marcio È come sulla confezione Per cui cosa diciamo? È come sulla confezione? Sì Torta variegata È la classica torta Che fanno gli scout E che vendono fuori Dalle chiese Per autofinanziamento Sì perché è la più facile da fare Credo Perché butti robe a caso dentro Sì Esteticamente Obiettivamente Anche dalla confezione Notavo prima guardandola Puntano molto sul fatto Che sia tipo Handmade E non Se guardate l'immagine Che è sul fronte Della confezione Guardate il ghirigori Che c'è sopra È assolutamente Casuale Se girate la confezione Trovate un'altra foto E il ghirigori Venuto in superficie La torta È diverso Questo ci fa capire Che Le cose Nella vita Si fanno a caso A prescindere dalla texture sopra Che deve essere casuale Quella invece interna Alla fetta Vedi che è precisa Ok Netta Sono intervalli regolari Di strisce Del cacao Che si alternano A quelle dell'uovo Quante maroni E quante gialle 3 e 3 3 e 2 Ma sai Lezzo Quante sono 3 a cacao E 2 all'impasto normale Teniamolo ben a mente E come la confezione Deve essere bella gonfia Bella spessa È bellissima Non buttarla Scherzi Però Come sulla confezione Butti la scuola In la confezione Qui si vede che non è fatta Però a mano Perché il macchinario Ti produce sempre Lo stesso disegno C'è c'è un pattern Preciso È lei A parte la parte non in cacao Che è leggermente più scura Vado a tagliare Subito notiamo Che effettivamente Il disegno che c'è Sopra la confezione Corrisponde al disegno Che c'è fuori dalla confezione Penso che sia La primissima volta Che ogni qualsiasi aspetto Che avevamo esaminato In confezione Si rifletta Nella realtà Perché qui La legge del 3 e 2 bande Persiste E soprattutto Non l'avevo notato Lo vado a notare adesso Guardando La torta fuori dalla confezione La superficie Della parte gialla È più scura Rispetto all'interno E lo stavo per criticare Mentre Anche in confezione È così È vero Fai vedere anche in seconda camera Che vedano bene la fetta Guarda seconda camera Osserva bene la fettina Colore più scuro Colore più chiaro 3 bande nere 2 bande gialle È come sulla confezione? Sì Tiramisù Cesare io qua Ci rimango male Perché Perché sono un gran fan Di mascarpone Tiramisù Eccetera eccetera E sinceramente Data la mia esperienza In materia Non ho mai visto Neanche tipo in pasticceria Una torta Così perfetta E io ho paurissima Di aprire questa confezione Tirare fuori l'involucro E trovare una cosa spiaccicata In forme È assolutamente Riprezzevole Ma tu in realtà Queste cose qui Le hai già viste Sono le classiche torte Che ti mettono sui rulli Degli all you can eat Giapponesi Prima di aprire E rimanerci male Capiamo che cosa cercare Così facciamo Veloce indolore Veramente Ci sono tutti gli strati Vuoi vedere Ogni singolo strato Preciso E impilato Su quello precedente Tre Sei strati totali Con la polvere ben sparsa Tutti della stessa altezza E Non ti riesco a completare Ben definito Ben definito E l'avevi già detto tu Per quello Non guardo Non guardo Non guardare La smetti di lanciare via le confezioni È come sulla confezione Questo nel trasporto Cosa comunque Che dovrebbe essere prevista Dall'azienda Che le produce È stato ribaltato Quindi tutto Quello La crema Che era sopra Al momento È Vi faccio vedere dove È Sul tappo No Sul coperchio Si è tutto spiaccicato Quindi sembra Un libro vecchio Il tomantino Ho paura Sono diverse A seconda di dove è tagliata Avete o un toast Oppure una smarmellata totale Perché qui Sembra una torta Mangia Cioè Torta già fatta Male Mangiata Digerita un po' intera Senza masticarle Poi Espletata È come sulla confezione No Torta al cioccolato Con ripieno di crema al cioccolato Sono molto teso L'unica cosa che voglio vedere È questo fiume Il fiume Il fiume di cioccolato Il cuore perfetto sopra Deve esserci Il cioccolato Essendo torta al cioccolato Con ripieno di crema al cioccolato Come ha detto la voce di Dario Essendoci in confezione Un vasetto Di cioccolato Cosa deve esserci? Cioccolato E deve essere pure bella croccante Perché sembra C'è un gran fiume di cioccolato C'è un fiume di cioccolato Basta lanciarle Basta Guardalo È pure un cuore Fatto male Beh so piano Il cuore è preciso Non è proprio centrato Ma è preciso È più grosso che nella confezione È anche molto più scuro Mi potete spiegare Qual è la legge fisica Per cui nelle confezioni Le torte Sembrano cento volte più grandi Rispetto Perché se no La uso con le Con il penne È lei Sì È lei È un pochino più scura Un pochino più scura Però il cuore c'è È uguale anche a lì Non barano sulla farcicura Vai un attimo Per favore A testare La cremosità Del cuore di cioccolato Perché qui È veramente cremoso Vado a prendere Nella realtà Mi sa che è un po' secco Tipo No Anzi Guardalo Ma non schiuma fuori Dai Guardalo Guardalo È proprio una crema Sì E allora che dire ragazzi È come sulla confezione Sì Rol farcito e ricoperto Al cacao magro Cesare quando lo apro Sì E ti allungo la confezione La tengo Non lanciarlo Ok Rol hanno preso il pan di spagna Ci hanno messo il cacao L'hanno arrotolato E l'hanno riempito di granella sopra Quindi Granella Che sarà sciolta A groviglio di cacao centrale Però Ben preciso Che non si sia spiattellato Guarda qua Non è che sia ben distinto Sì Sì Va bene E crossa di cioccolato sopra Con della consistenza Lo so Ma vuoi molla Non ce l'avevo No Va vabbè Sbostalo Sarà flaccido Può darsi Sai che è proprio bello Sai che mi fa proprio fame Ma no No Mi sembra un tartarugone Io sono soddisfatto Guarda che qui ha fatto al computer Non è una foto? È in digitale È tutto in digitale Però è lui dai Andiamo a vedere com'è dentro Passami tagliare Bravo che non hai lanciato la confezione Eliminerei la prima Non la prenderei in considerazione E partirei dalla seconda Chiudete tutti gli occhi Anche voi a casa E non guardiamo la prima fetta Per non farci influenzare Poteva essere meglio Ma poteva essere anche Decisamente pedico Sono un po' turbato dal fatto che si spiace Che una E una due Non è proprio regolare Vedi che ci sono degli sprazzetti Un pochino più ciccioli Che il rotolo Che secondo me erano i punti di farcitura Però è lui dai Ma non so È un po' avvizzito Però un po' è lui dai La superficie è carina Però quando vai a tagliare A mio avviso Se fai sulla confezione una cosa così precisa Addirittura fatta a computer Che non è neanche una foto Ti aspetti che comunque sia Abbastanza ordinato dentro Mentre dopo il nostro taglio È tutto abbastanza confusionato È tutto un po' mescolato C'è poco rigore Secondo te Cesare Che tipologie di esseri umani Possono arrivare A comprare questa cosa Non lo so perché è abbastanza triste Da vedere Chi è che compra questa cosa? Io l'ho visto solo da mia nonna E in qualche hotel sulla riviera Romagnola Perché te lo danno per colazione Non ispira tirato fuori dalla scatola Ma non ispira neanche a vederlo dalla confezione Perché è veramente finto Scriveteci nei commenti qua sotto Chi cacchio compra questi rotoli E se voi li avete comprato Vergognatevi Disiscrivetevi E lasciate un mi piace Vendono poi già le girelle Che sono questa cosa Già tagliata Perché comprare la tutta unita? Per lo sfizio di tagliare È come sulla confezione? Sì dai Non mi ricordo sinceramente Il risultato di tutti gli altri video Gli altri? Guardi invece circa sì Ed erano estremamente tragici E infatti riusciamo molto positivi Da questo video Le torte non mentono Il tiramisù un pochino sì Però lo consideriamo torta No dai Il tiramisù ci inganga I nostri complimenti quindi Alle torte Che sono coerenti con se stesse Un applauso di tutti insieme? Tanto facciamo Facciamo altro che applaudire Crea solidarietà sociale Che cos'altro potremo andare a testare Come è sulla confezione? Scrivetecelo qua sotto nei commenti E tanto faremo di testa nostra Perché decidiamo noi Come al solito Vi chiediamo di commentare soltanto Per far entrare i video in tendenza Anzi vi dico già che abbiamo già deciso A 30.000 mi piace infatti Faremo un altro di questi video E come sulla confezione Non vi dico su cosa Perché se no ci copiate Lo fate voi a casa E fate un sacco di videosi Tanto lo fanno comunque Ma la vera domanda è Noi siamo come sulla confezione? Lo scoprite Su Around the Ball Il nostro secondo canale A reverenza Almeno una volta In un dietro alle quinte Sì ma mi puoi parlare Ma devo sempre Ma ragazzi ma devo sempre Mettermi a farlo psicopatico Ma qualcos'altro Pariamo Scusate se stiamo facendo un video Sulle torte Perché dovete parlare Della mare dell'adesso Ma falli imposare un po' C'è lì perché qua Che fa le inquadrature Alle torte La vera siliniera Ma beh ragazzi C'è Ma lì fuori di casa Sai il back stage Allora Ho capito cosa mettiamo Su Around the Valley Ma non lo so Ma quello che ti fai Fai un psicopatico Davanti alla scala Ragazzi Lo parlo psicopatico Perché comunque Bisogna portare del contenuto Anche qua Eh vabbè Cioè Ci mettiamo a parlare Degli affari nostri Cioè Nicola Sventila Prego